E' sicuramente una partita importante, una partita contro una squadra che ha dei valori importanti, che ha blasone, che ha ambizioni e quindi dovrà essere affrontata con il massimo dell'impegno, dell'attenzione. E poi dispiace sicuramente per l'assenza dei tifosi sugli spalti, però ci hanno fatto sapere che verranno a caricarci dopo l'allenamento e questa è una cosa che ci ha fatto molto piacere perché ne abbiamo bisogno. Così come vi ho detto già altre volte, la presenza e il sostegno dei nostri tifosi è fondamentale. Oggi nell'allenamento di stamattina prepareremo e definiremo gli ultimi dettagli per la gara di domani. Tra gli assenti ci saranno ancora sicuramente Cionec, Patierno e Tito. Rientrano Dall'Oglio, rientra Falbo e faremo delle ultime valutazioni per Casarini. Non vince l'Avellino sicuramente da troppo tempo sul campo di Catania, quindi faremo il possibile affinché questa statistica possa cambiare e domani metteremo tutto il nostro impegno affinché si possa cambiare qualcosa. Per quanto riguarda lo step, c'è bisogno che lavoriamo nel quotidiano, poi al di là di quello che sarà il risultato di domani non andrà a definire in maniera netta quello che noi siamo e quello che stiamo diventando. Sicuramente quella di domani sarà una partita in cui avremo ulteriori indicazioni per quelle che saranno le cose da migliorare, da dove crescere soprattutto e sarà sicuramente uno step importante. Sappiamo benissimo dove vogliamo arrivare, sappiamo benissimo cosa vogliamo diventare e sappiamo altrettanto bene che per fare tutto ciò c'è bisogno di lavoro, di sacrificio, di dedizione, di passione. I ragazzi questa roba qui l'hanno ben capita e sono ben predisposti a mettere sul campo tutti questi elementi. La ringrazio per la domanda perché così mi dà la possibilità di parlare anche di questa situazione che non mi piace affatto, conosco i dirigenti del Catania e tra questi c'è Grella, c'è Laneri che sono persone che conoscono bene il calcio, sono persone che la sanno lunga e quindi tutto ciò che stanno creando prima di questa gara è qualcosa che non mi piace per niente perché il Catania ha dei valori importanti, il Catania si ripresenterà con il proprio allenatore e stanno cercando di fare delle cose che col calcio ci entrano poco e noi non dobbiamo cascarci assolutamente perché noi domani troveremo una squadra che ci affronterà nel migliore dei modi e dobbiamo essere pronti. Questo è quello che i miei ragazzi devono sapere e che dirò fino al minuto prima di entrare in campo. In questa situazione, in questa dinamica è chiaro ed è palese come vi ho sempre detto che i risultati aiutano a far crescere l'autostima, a far crescere la fiducia e nel recepire ciò che è la nostra proposta. Nel momento in cui ci sono i risultati tutto ciò che proponiamo viene assorbito nella maniera giusta, in maniera positiva, anche con più leggerezza e quindi da questo punto di vista siamo contenti perché aiutati proprio dai risultati e questi ci danno la possibilità di continuare e di lavorare nella maniera giusta. Gori ha recuperato, sta bene, era semplicemente un affaticamento, un dolore da fatica perché aveva spesso tanto. Per quanto riguarda Pezzella io citerei oltre che Pezzella anche tutti gli altri che sono subentrati come San Nipoli, tutti gli altri giocatori perché una costante è questa proprio che chi entra riesce a subentrare con il ritmo giusto, con l'attenzione giusta e con la voglia giusta. E questo sposta gli equilibri perché alla fine poi se andiamo a vedere anche nelle ultime partite i giocatori che sono subentrati hanno determinato e questo è un segnale importantissimo. È chiaro che per la partita di domani ci sarà bisogno di energie fresche e faremo delle valutazioni anche in questa direzione. Mi aspetto più partite all'interno della stessa. Sicuramente ci sarà un Catania che cercherà di imporre il proprio gioco perché Catania è una squadra che predilige molto il palleggio, il fraseggio e quindi perché ha giocatori con quelle caratteristiche e noi dovremo essere pronti a controbattere a questo tipo di strategia. Poi in base a quelli che sono gli eventi che vanno a caratterizzare la partita si svilupperanno altre partite all'interno dei 95 minuti e noi dovremo essere pronti anche a sopperire o a gestire o in base alle dinamiche a farci trovare pronti. Butterò tutti e due gli occhi perché andrò a vedere la partita e quindi cercherò di seguire qual è la condizione reale del ragazzo che per noi è un giocatore importantissimo e abbiamo bisogno di vedere e solo attraverso una partita vera possiamo avere delle indicazioni reali.